Terzo posto, third place, la squadra dell'Italia. Al secondo posto, second place, la squadra dell'Italia. E al primo posto, la squadra della Russia. Il premio della prima squadra classificata sarà consegnato da Stefania Sovra, presidente del comitato regionale Sardegna, della Federazione Ginnastica d'Italia. Il premio della seconda squadra classificata sarà consegnato da Sabina Potto, per riguardo allo sforzo che comincia l'Italia. Il premio della terza squadra classificata sarà consegnato da Gianni Nutt, rappresentante del governo. Grazie. Grazie a invito le squadre a rientrare nello schienamento. E siamo alla premiazione del concorso squadre specialità tre nastri e due centri. Al terzo posto, la squadra della Francia, third place. Al secondo posto, second place, la squadra dell'Italia. Il premio della prima squadra classificata sarà consegnato da Riccardo Pagano, presidente della Federazione Ginnastica d'Italia. Il premio della seconda squadra classificata sarà consegnato da Massimo Zerfone, sì, della Città d'Italia. Il premio della terza squadra classificata sarà consegnato da Marina Piazza, direttrice tecnica nazionale per la sezione di ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d'Italia. Grazie. Grazie. Grazie a la visione. I'm fred Dead. I'm freddo. Grazie!